Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City e buon anno a tutti voi. Al vaglio del governo, le nuove misure subito dopo le feste, si pensa ad ulteriori chiusure per i weekend. Intanto sono 100 mila i primi italiani che si sono sottoposti al vaccino e non mancano le polemiche. La campagna di vaccinazione è partita anche per l'Asl Napoli 3 Sud. Ascoltiamo le prime parole degli operatori sanitari. Non manca il consueto appuntamento con l'aggiornamento sui contagi nei comuni del Vesuviano. Spazio anche alla cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza che ha arrestato 13 persone per contrabbando di sigarette. Torniamo a Torre del Greco questa mattina a Palazzo Baronale consegnati saturimetri ai medici di base e ai responsabili delle RSA. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. A pochi giorni al termine delle festività natalizie il governo insieme ai tecnici studia ciò che saranno le misure dal prossimo 7 gennaio. La scadenza del decreto natalizio al momento prevista il 6 gennaio potrebbe essere prorogata con un'ordinanza dal Ministro della Salute ma non è l'unica ipotesi in campo. Si va dunque verso la linea rigida anche in vista dei giorni a venire. Le proposte al vaio sono due. Quella di mantenere in vigore le misure vigenti fino al 15 gennaio, arancione nei feriali e rossa nel weekend, oppure di tornare in zona gialla per il 7-8 gennaio per poi passare alle misure della fascia arancione il weekend del 9-10 e successivamente, sulla base del monitoraggio, assegnare le fasce per la settimana seguente. Non da escludere il ritorno in zona rossa nel weekend. Il provvedimento potrebbe essere firmato anche entro stasera e dovrebbe prevedere il divieto di spostamento tra le regioni, ristoranti e bar solo da sporto nel prossimo weekend e ancora il divieto di ospitare più di due persone a casa, tra amici e parenti. Scuole elementari e medie tornano in presenza al 7 gennaio, mentre sulla riapertura delle superiori diversi governatori ritengono che sia decisivo aspettare l'esito del monitoraggio previsto l'8 gennaio. È la questione incidentalmente posta ai presidenti di regione durante il vertice di stasera, che ha riguardato invece come oggetto principale le altre misure dopo il 7 gennaio. Superati i 100.000 vaccinati in Italia in una settimana, prosegue tra perplessità e polemiche la campagna vaccinale in Italia, che con 109.454 vaccinati è al secondo posto in Europa, dietro alla Germania, per numero di somministrazioni. Ad attaccare il piano vaccini messo a punto agli esperti e dal commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri, e anche la ministra per l'agricoltura, Teresa Bellanova, che parla di insufficienza e poca chiarezza. Ma i ritardi e le problematiche legate alla mancanza di medici, al personale sanitario in ferie e alla carenza di siringhe di precisione mettono in apprezzione anche altri membri dell'esecutivo e i tecnici. Sotto i riflettori è finita la Lombardia, che con il suo 3,8% di vaccinazioni effettuate rispetto alle dosi ricevute, è ancora in quota alla classifica sulle somministrazioni. Quella graduatoria è agghiacciante, tuona l'assessore alla salute della Lombardia Giulio Gallera. I sette governatori leghisti, da Fontana a Zaia, passando anche per quelli di Sardegna, Fruli, Calabria, Umbria e Trentino, chiedono in coro di garantire subito quanto promesso al governo, personale sanitario per effettuare le vaccinazioni, per non rischiare di mettere ulteriormente sotto stress un sistema già stremato. Il Lazio svetta in classifica tra i territori virtuosi, con 22.225 vaccinati, e in effetti la regione con il più alto numero di vaccinazioni in assoluto, ed anche quella con la più alta percentuale di vaccinati, 48,5%, sul numero di dosi consegnate, 45.805. Quinta, invece, è la Campania, con una percentuale del 19,7% di dosi somministrate su quelle arrivate. Intanto è risultata positiva al Covid-19 una dottoressa dell'ospedale Umberto I di Siracusa, che era stata vaccinata sei giorni fa a Palermo. Secondo quanto confermato dall'azienda sanitaria provinciale, era stata una delle prime ad essere sottoposta al vaccino e sabato è stata ricoverata. Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, spiega che la protezione immunitaria è completa solo dopo la somministrazione della seconda dose del vaccino. Negli articoli scientifici, osserva Locatelli, è chiaramente riportato che anche negli studi clinici si sono infettate persone dopo la prima dose proprio perché la risposta immunitaria non è ancora completamente protettiva e lo diventa soltanto dopo la seconda dose. Questa è una delle ragioni, conclude, per non abbandonare i comportamenti responsabili dopo essere stati vaccinati. La campagna di vaccinazione contro il Covid-19 è iniziata anche per i presidi ospedalieri dell'Asla Napoli 3 Sud. La prima buona notizia è arrivata a margine nel 2020. Nella mattinata del 31 dicembre la prima vaccinata è stata Rosa Lebbano, infermiera del pronto soccorso del San Leonardo di Castellammare. La speranza è quella che noi oggi cerchiamo, la fine di quest'incubo, cercando di convincere anche gli altri colleghi a seguirci e dare, diciamo, fine a questa, non so, come definirla? Dramma. Ci sono state scene che non potremmo mai dimenticare, mai. Questa è l'unica arma che ci è stata data. Sempre il 31, il primo vaccinato dell'ospedale di Nola è stato Andrea Manzi, direttore del pronto soccorso, che ha invitato tutti i colleghi e i cittadini a seguire il suo esempio. Ora una volta invito tutti i medici, tutti gli operatori sanitari e tutta la popolazione a vaccinarsi. A seguire si è proceduto senza disagio alle vaccinazioni degli altri operatori sanitari, provenienti dai vari presidi dell'Asola Napoli 3 Sud. A Torre del Greco salgono i casi di contagio da Covid-19. Nei primi tre giorni dell'anno nuovo registrati 59 nuovi positivi, certificate anche 32 nuove guarigioni. Attestato anche il passaggio di un soggetto positivo dall'isolamento domiciliare al regime ospedaliero. Muta dunque il bilancio dei casi di contagio nella città. Sono 42 soggetti ospedalizzati, 269 in isolamento domiciliare, 2.228 guariti e 67 deceduti. Sono 5 nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati a Torre Annunziata nei giorni 1 e 2 gennaio. Al contempo certificate anche 20 guarigioni. Scende a 134 il numero di cittadini attualmente positivi, 118 posti in isolamento domiciliare e 16 ricoverati. Sale a 1.404 il numero delle persone che hanno contratto il coronavirus attore annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 1.242 guarite e 28 decedute. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha dato esecuzione tra le province di Napoli, Caserta, Firenze e Ravenna ad un'ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Napoli che ha disposto misure cautelari nei confronti di 13 indagati indiziati di associazione per delinquere dedita al contrabbando di sigarette provenienti dall'est Europa. 4 soggetti agli arresti domiciliari e 9 gli obblighi di presentazione alla Polizia giudiziaria. A questi si aggiungono altre 6 persone nei cui confronti è stato notificato l'avviso della conclusione delle indagini. Gli indagati risultano a vario titolo responsabili dell'introduzione, vendita, trasporto, acquisto e detenzione sul territorio campano di tabacchi lavorati esteri. Contestualmente alle misure cautelari personali, le fiamme gialle all'esito di accertamenti economico-patrimoniali hanno proceduto anche all'esecuzione di sequestri di quote di tre società per via della sproporzione tra i redditi regolarmente percepiti e di dichiarati e di reale tenore di vita. Le attività investigative, anche di natura tecnica, sono state condotte dai finanzieri della Compagnia di Pozzuoli e hanno permesso di documentare l'esistenza di 5 strutture criminali operanti stabilmente e in forma associativa nei comuni di Quarto, Marano, Melito di Napoli, Mugnano e nel rione sanità del capoluogo partenopeo. Nel corso delle indagini, durate oltre due anni, sono stati complessivamente eseguiti 4 arresti domiciliari, 11 in fragranza di reato, denunciati 40 responsabili e sequestrati circa 5 tonnellate di tabacchi lavorati esteri, 12 autoveicoli e 13 tra box e garage. Consegnati quest'oggi a Palazzo Baronale, saturimetri ai responsabili dei medici e dei rappresentanti delle RSA. A presenziare alla cerimonia il sindaco della città di Torre del Greco, Giovanni Palomba. Ti consegno a nome di tutti i medici di base, i medici pediatri, i 100, veramente si chiamano pulsosimetri, con 100 flacconi di gel igienizzante, 100 pacchi di guanti e 1000 mascherine FFP2, perché questi servono a voi per stare più tranquilli, per curare cose che fate magnificamente i nostri pazienti Covid. Un messaggio importante nella lotta al Covid, nei confronti di chi è in prima linea nell'emergenza sanitaria. Ringraziamo la vicinanza del sindaco e del COC e di tutta l'amministrazione comunale, anche dell'Aslo ovviamente, per la vicinanza in questi mesi difficili e anche per il gesto che comunque per noi è importante. Il sindaco, l'avvocato Giovanni Palomba e tutta l'amministrazione comunale hanno manifestato grande sensibilità nella nostra richiesta di poter avere in dotazione questi saturimetri. Magari qualche medico ce l'ha, non ce l'ha, lo ha in dotazione solo per lo studio. Magari questa sarà l'occasione per avere nella propria borsa e poter così immediatamente, quando si trova a visitare un paziente Covid o con insufficienza respiratoria, poter avere subito un riscontro della saturimetria. L'occasione è quella di ringraziare il sindaco e tutta l'amministrazione comunale e di rendere alla cittadinanza tutta un ulteriore servizio medico. Quale sono importanti questi tipi di iniziative per sensibilizzare i cittadini e non solo alla lotta al coronavirus? La maggior parte dei pazienti che abbiamo che non sono ricoverati e sono oltre il 70% e sono Covid positivi si trovano al proprio domicilio e sono i medici curanti che attraverso visite oppure coadjuvate nelle visite dalle USCA o attraverso la telemedicina, dei controlli e dei monitoraggi telefonici, dei controlli e dei monitoraggi con strumentazione a distanza possono seguire questi pazienti che sono pausi o con lievi sintomi. E con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordo che potete contattarci inviando una mail all'indirizzo redazionechiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561484. Con questo è veramente tutto, arrivederci a domani per una nuova edizione aggiornata del nostro Tg.